Sì, dubbi, incertezze? Tranquilli, c'è Altro Consumo e ci sarei io, testimonia che vi spiega tutto. Ma lo sapete che Altro Consumo organizza periodicamente dei gruppi d'acquisto rivolti ai consumatori per spuntare delle tariffe vantaggiose con le aziende? D'altronde, grazie alle economie di scala, le aziende sono in condizione di proporre offerte interessanti a coloro che partecipano al relativo gruppo d'acquisto. Certo, Altro Consumo così permette ai consumatori di ottenere migliori condizioni di mercato perché le aziende interessate si mettono in una sorta di competizione per creare l'offerta migliore per i clienti che partecipano al gruppo d'acquisto e la gara viene vinta dall'azienda che fornisce la migliore qualità, risparmio e sostenibilità. Tra l'altro, Altro Consumo per i partecipanti ai gruppi d'acquisto negozia non solo le condizioni economiche ma l'intero pacchetto di vendita verificando anche la parte contrattuale dell'offerta che viene proposta. E che sia chiaro, i consumatori possono aderire al gruppo d'acquisto in maniera spontanea e libera e una volta ricevuta l'offerta migliore dal partner che ha vinto la gara potranno decidere se accettarla o meno. Che poi Altro Consumo non solo garantisce supporto in ogni fase dell'azione, dalla registrazione al post vendita, ma i soci che partecipano hanno in genere pure ulteriori vantaggi economici rispetto ai non soci. E guarda che partecipa un sacco di gente, ad esempio negli anni il gruppo Abbassa la Bolletta, dedicato alle migliori tariffe luce e gas, ha unito più di mezzo milione di partecipanti con risparmio medio annuale di 250 euro ciascuno. E ci sono stati gruppi anche riguardo il fotovoltaico, i carburanti, i climatizzatori, stufe a pelle, rc auto. E riguardo i pneumatici anche? Eh, lo sapete? Un socio Altro Consumo, queste cose le sa.